Dai che non ti cuocio mica, non ti cucino, dai, dai, dai Stai qui un attimo, dai, stai qui Lasciamo fare un giretto intanto Dove vai, dove vai, dove vai? Tina, vieni Facciamo prendere un infarto a mia madre Farà una farcita al forno Farà una con lenticchie Cazzo non mi risponde Oca alla lionese Piccione in cocotte Ciao C'è la mamma all'ingiro che non mi risponde il telefono Chi sei? Sono Mirko, porca puttana, sono tuo fratello Ciao, c'è la tua mamma all'ingiro per caso Ciao, ciao, ciao C'è Mirko che ti cerca È in bagno? Sì Piccioni con olive, cipolline e prosciutto Vieni Ciao, bella, ciao Non sta funzionando il piano che avevo premeditato Per chi mi avete preso Non cucinerai mai un gatto Ho un po' di empatia Anch'io Ciao, mina E la luce? Guarda là No, 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 no Comunque il felino credo che sia carne rossa o carne bianca Adesso ti riporto giù, dai che sei tutta impaurita Ti riporto nel forno No, scherzo Gatto alla Vicentina Mina, vieni qua, dai che hai freddo Vieni qua, vieni qua Questo prelibatissimo piatto tipico della cucina Vicentina È purtroppo ormai completamente scomparso dalla cucina E dalle trattorie della zona Credo che il motivo sia qualcosa che abbia a che fare con le denunce e la legge È forse cambiato il palato dei commensali O forse sono semplicemente i gatti ruspanti che mancano In questo mondo dominato dalla new economy Dove i felini seguono il mouse sullo schermo del computer E sono nutriti esclusivamente in KitKat Quello che ha scritto questo articolo credo sia messo peggio di me Cioè io mi sforzo, faccio gli scherzetti Ma questo ci crede veramente Capite che qualche rotella fuori posto Non vorrei dire però secondo me Per i temerari che si sentono in grado di cimentarsi con la proverbiale gatta da pelare Che coincidenza Anche la mia è una gatta L'arte di metter su il gatto Un'ultima raccomandazione Ma questo ci crede veramente Lo ribadisco sto scherzando Voglio bene al mio gatto Vi metto l'articolo in descrizione Così non mi date del pazzo che mi invento le cose Eh? Ok? Eh Scegliete un gatto di compagnia giovane e ben nutrito Possibilmente di razza certosina Mina Mina Dai che non ti cucino Dai dai Noo il forno È solo 300 watt Non è abbastanza per un gatto grasso come te Vieni ciù Vieni mina Ciao bella Non ho tempo per cucinare i gatti Mi faccio una pasta al sugo veloce così dai Difidate dei gatti d'appartamento allevate a KitKat Dovrà essere tenuto circa una settimana a frullare sotto la neve Pensavo fosse una cosa divertente da fare per un video così scherzarci sopra a cucinare il gatto Ho il gatto vivo qui tra poco non lo è più scherzo voglio bene il mio gatto continuerà a mangiare croccantini e bustine di pappetta e carne e salmone perché è viziato No non la cucino dai no Aia Oh 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 ciao Mina ciao No no non lo faccio 180 gradi per un'ora e 40 Ma stai tremando ma stai tremando di paura Non si fanno queste cose I gatti sono animali da compagnia sono affettuosi Ogni tanto si ammazza un topolino ogni tanto si ammazza un uccellino In fin dei conti non sono poi così malvagio Dai che ci crediamo dai dai Povero gatto sta tremando ciao 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 ciao